appuntamento con la storia e di questa storia abbiamo oggi illustre ospite uno dei massimi esperti e indagatori benvenuto benvenuto franco fracassi ben ritrovato al vaso di pandora grazie mille allora la tua produzione a livello di libri di scrittura è intensissima in questi in questi ultimi tempi sono usciti due nuovi libri che hanno ovviamente strettamente correlati alla alle vicende di vent'anni fa del 9 settembre 2001 li vediamo in sovraimpressione the easy files da washington al donbass la storia segreta del califato e burning down 9 11 l'incredibile storia di come si arrivò all'11 settembre distribuzione indipendente poi i nostri ascoltatori possono trovare in descrizione l'indirizzo franco fracassi 1 chiocciolagmail.com per l'acquisto dei dei libri e io ricordo anche due fantastici documentari che hai realizzato nel 2007 e 0 inchiesta sull'11 settembre con partecipazioni di grande prestigio come dario foe monio vadia lella costa e giulietto chiesa e poi anche un sequel nel 2010 one inchiesta su al qaeda senti franco veniamo subito al al tema ecco io ho rivisto in questi giorni le immagini del crollo delle torri gemelle esattamente vent'anni fa ecco senti senza senza più l'emotività no dei della del periodo e anche magari degli anni successivi a distanza ormai di vent'anni e senza poi la narrazione mainstream ma che diciamo orienta anche le nostre stesse emozioni io guarda la percezione che ho avuto è che il crollo sia stato intenzionale e controllato non non riesco proprio a vedere adesso scevro di quelle emozioni un qualcosa del genere e tu cosa tu cosa ne pensi questa questa è quello che ho vissuto io nel rivederla era da un bel po di tempo che non vedevo quelle immagini penso che tu abbia ragione diciamo che forse a differenza due ogni volta le rivedo mi emoziono insomma sono delle cose non riesco a abituarmi insomma quelle immagini guarda a scanso di malintesi non è che le guardo allora mi impressionano ma da un punto di vista tecnico non riesco a percepirle come un crollo spontaneo ecco allora su questo è perfettamente ragione perché ci sono un elenco senza fine di motivazioni per cui quel crollo non può essere solo spontaneo diciamo davanti a tutti ci sono due cose uno è il fatto che la velocità di crollo è tale per cui è come se l'ultimo piano delle torri fosse caduto in caduta libera cioè senza avere nulla sotto mentre invece aveva altri 110 piani non è che sono dissolti quei 110 piani c'erano quindi non è invece è caduto come se i 110 piani in contemporanea si fossero dissolti e questo diciamo il primo fattore il secondo è che il diciamo il tipo di 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 edificio che ha che sta colpito appunto dagli aerei cioè quelle le torri di d'acciaio non non crollano perché non sono mai crollate per degli incendi tant'è che e nemmeno per l'impatto degli aerei ci sono state costruite questo l'ha detto il costruttore di colui che aveva progettato le torri e aveva detto chiaramente che il progetto era stato fatto per poter reggere l'impatto non di uno ma di due aerei ciascuna torre poteva reggere l'impatto di due aerei più grandi di quelli che abbiamo visto di quelli che sono schiantati contro le torri aggiungo invece due cose che non non attengono diciamo alla parte tecnica ma tengono la parte diciamo testimoniale che comunque eliminano di per sé qualsiasi teoria che può riguardare le torri il colore torri avvenuto attraverso grazie a causa dell'impatto degli aerei allora la prima noi abbiamo tra le persone abbiamo intervistato le tantissime persone intervistato c'è stato anche il portiere delle torri gemelle cioè colui che apriva e chiudeva le porte insomma che aveva le chiavi il suo ufficio era nel in uno dei sotterrani c'erano cinque piani sotterrani avevano le torri gemelle e il lui racconta lui stava al secondo piano sottoterra gli racconta di aver udito chiaramente il botto dell'impatto dell'aereo solo successivamente a un altro botto un'altra esplosione perché il suo piano è letteralmente esploso c'è stato c'era molto diciamo in maniera molto semplice c'è una bomba c'è un'autobomba nel sottosuolo quindi è già strano che come noi abbiamo visto gli impatti e contemporaneamente mettono un'autobomba nel sottosuolo il suo piano esplode letteralmente e ci sono tantissimi morti e feriti nel suo piano gente che gli viene incontro con la pelle cadente bruciata e cerca di soccorrere cerca di salvarli e ci sono esistono anche le testimonianze di queste persone perché alcuni sono sopravvissuti insomma che aggiunto sono morti a causa di questa esplosione che nulla ha a che fare con il l'impatto dell'aereo e questa esplosione precede di pochi secondi l'impatto dell'aereo la seconda cosa invece riguarda un altro un'altra intervista che abbiamo fatto in particolare al a colui che ha redatto il documento tecnico sul crollo delle torri quindi diciamo la persona più indicata di tutte questa persona ha scritto un rapporto in base al rapporto che ha scritto e sarà licenziata e quindi poveraccia persi il lavoro perché ha scritto un rapporto questo rapporto è stato riscritto alla lui ha raccontato le indicazioni che gli sono state date perché per riuscire a capire come sono cronate le torri sono state fatte le simulazioni no alle simulazioni al computer in cui sono stati inseriti tutti quanti i dati questo è sopra la versione ufficiale non di una cosa qualsiasi quindi simulazione al computer allora normalmente sarebbero dovuti essere inseriti i dati statici delle torri e poi i dati degli aerei quindi la velocità degli aerei il peso la quantità di carburante eccetera 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 insomma la combinazione di queste due cose dovrebbe diciamo doveva dare il significato al crollo di queste torri spiegazione allora loro hanno verificato semplicemente in questa maniera qui le torri non potevano crollare non potevano crollare non esiste l'hanno verificato quelli che hanno fatto il rapporto ufficiale al che l'ordine giuntogli dal ministero di giustizia non è stato di come dire scrivere il rapporto in base a quello che hanno trovato è stato di scrivere un rapporto che doveva parlare del crollo indotto dal dall'impatto ieri che però si ribaltava completamente la ricerca cioè allora dovete fatto diciamo come punto fermo il fatto che le torri sono crollate a causa degli aerei inserite i parametri in maniera tale che giustificano questa cosa in altre parole hanno incominciato prima a togliere pilastri alle torri hanno alterato tutto in pratica hanno tolto pilastri le torri per rendere più fragili non crollavano al che hanno incominciato a aumentare il peso dell'aereo hanno incominciato a aumentare la velocità dell'aereo hanno cominciato a aumentare la quantità di carburante alla fine si aerei erano grossi il doppio pesavano il triplo e c'avevano il doppio di carburante e le torri presente non avevano pilastri in questa maniera quindi hanno proprio stravolto la realtà in pratica falso clamoroso quello della teoria ufficiale no questo per per capire per far capire che non si tratta semplicemente di cose molto tecniche cioè questo già queste due informazioni dovrebbero bastare tutto quanto il resto certo io tra l'altro siccome proprio ho rivisto i giorni scorsi questi tuoi documentari adesso che me lo raccontavi proprio rivide rivedevo le immagini per esempio della della dell'inserviente alla sicurezza i piani quella che hai descritto poco fa una testimonianza molto toccante che i giorni successivi ha ottenuto anche l'encomio da parte di george w bush jr e poi in realtà un sacco di gente perché ha salvato un sacco di gente e poi in realtà ha voluto cominciare a cercare la verità perché perché si stava rendendo conto che quella che si stava creando era una completa alterazione della realtà delle cose e è stato ostracizzato proprio dai dalle istituzioni americane in realtà no quindi quindi rivista con con il seno di poi a maggior ragione è molto toccante quella quella testimonianza senti franco biden ha comunicato che i giorni scorsi che desecreterà alcuni documenti finora rimasti inaccessibili a tutti sull'undici settembre ecco tu cosa ti aspetti è un po un gesto di marketing in occasione della ricorrenza anche della del ventesimo anniversario mi viene un po in mente come ogni 27 giugno e ogni 2 agosto mattarella chiede sia fatta chiarezza sulla strategia ustica e sulla strategia della stazione di bologna no giusto per celebrare diciamo ecco a una valenza celebrativa non non altro sì sì non mi aspetto assolutamente nulla perché sarebbero folli a tirar fuori documenti che accusassero l'amministrazione statunitense o qualcuno vicino all'amministrazione statunitense non credo che accadrà mai non è ancora tempo comunque in ogni caso sì ma io secondo me non accadrà mai non sarà mai tempo però le rebbe l'intera impalcatura su cui si reggono si regge diciamo l'architettura gli stati uniti america cioè e comunque almeno quantomeno gli ultimi vent'anni poi no perché ovviamente l'undici settembre è stata la stura che ha dato l'inizio a tutta dinamiche di cui siamo che sono in pieno corso ancora adesso è una verità non raccontabile dal punto di vista ufficiale su questo io sono cosciente insomma bisogna esserne coscienti non è raccontabile non lo possono fare non lo possono fare anche perché io ribadisco non è un 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 episodio storico drammatico apocalittico che però nasce e si risolve lì in se stesso ha proprio dato la l'inizio di dinamiche che sono tuttora in corso a distanza di un vent'anni o quindi voglio che se si capisce se si capisce quel che accaduto l'undici settembre soprattutto se si va oltre la versione ufficiale l'undici settembre sia una visione di tutto quello del mondo che ci circonda totalmente differente cioè comprendere l'undici settembre apre gli occhi come nessun'altra cosa al mondo anche rispetto alla pandemia di oggi rispetto a qualsiasi cosa io l'ho visto in tante persone tantissimi mi hanno detto che grazie per esempio la visione del film zero hanno cambiato idea sul mondo e improvvisamente hanno incominciato a informarsi in maniera totalmente differente perché eh si capisce quanto il la realtà che la realtà dei fatti e l'apparenza che ci venga raccontata siano distanti tra loro viaggiano su piani paralleli che non si incontrano e l'undici settembre è il l'evento più clamoroso che racconta questo se si affronta bene la questione undici settembre è come non saprei come dire è come eh a vedere il mondo con nuovi occhi insomma certo cambiare le lenti diciamo ecco mettere delle lenti trasparenti e non colorate ecco mettiamola mettiamola così guarda ti devo confermare perché eh la quando quando l'ho visto io mi ha fatto veramente una forte impressione mi ha portato a a pensare ulteriormente e io direi che non faccio parte diciamo della del cittadino medio perché ovviamente facendo facendo il vaso di Pandora è chiaro che ho già una forma mentis e tutta una serie anche di di nozioni no e l'impatto è stato comunque questo quindi immagino chi eh chi chi lo guarda eh abituato alla narrazione più o meno della del mainstream sicuramente e se trovi che il lavoro eh che il nostro canale sta facendo da tre anni in qualsiasi utile e importante per la tua informazione allora sostieni il vaso di Pandora con la tua donazione ormai ti sei abituato all'assenza della pubblicità nei nostri video pubblicità che probabilmente ti dava eh fastidio ma l'entrata economica di questa pubblicità era fondamentale per noi eh ora l'esistenza e soprattutto la crescita del vaso di Pandora dipende da te eh trovi qui sotto in descrizione il link per la tua donazione allora Franco chi erano i dirottatori poi tra l'altro senti guardando anche il il tuo documentario e questo allora lo voglio portare e proporre alla riflessione anche dei nostri ascoltatori è vero che i finanziamenti riconducibili agli attentati dell'11 settembre provengono tutti dall'Arabia Saudita? Sì nel non in zero ma in one cioè nel sequel di zero si racconta esattamente questo eh sono entrato in possesso è stata una cosa diciamo una cosa più racambolesca che ho fatto durante questa inchiesta eh sono entrato in possesso di eh delle prove dei bonifici bancari degli assegni staccati ai dirottatori dei bonifici che sono serviti per finanziare l'11 settembre e l'origine perché poi hanno avuto tutto un lungo percorso insomma non è stata una cosa non è stata unica o un bonifico e la cosa è finita lì sarà una cosa un po' più complessa l'origine di questi bonifici di questi pagamenti è lo Stato lo Stato quindi non lo Stato un dei privati non villadiano qualsiasi altra famiglia privata lo Stato dell'Arabia Saudita questo cosa implica in base le le tue ricerche e i tuoi approfondimenti? implica il fatto che l'Arabia Saudita ha avuto enormi vantaggi da quello che è accaduto dopo l'Arabia Saudita intanto chiariamo l'Arabia Saudita non muove dito se non c'ha l'autorizzazione negli Stati Uniti l'Arabia Saudita è nata grazie agli Stati Uniti non esisterebbe era un paese è un paese fantoccio è un paese che non sarebbe mai dovuto esistere insomma nel 1926 perché delle compagnie petrolifere si sono accorte che l'Arabia Saudita è ricchissima di petrolio bisogna fare qualcosa però bisogna avere un interrogatore politico in Arabia Saudita se no non possiamo fare nulla e hanno individuato in una tribù la tribù dei Saud per questo si chiama Arabia Saudita non perché una ci sono un sacco di tribù in questa tribù dei Saud hanno individuato il loro interlocutore e hanno fatto di questa tribù uno Stato l'hanno fatto gli Stati Uniti cioè c'è un contratto e la nascita Arabia Saudita è la nascita più strana del mondo per quanto riguarda uno Stato che nasce attraverso un contratto cioè un contratto tra gli Stati Uniti d'America e la tribù dei Saud questo così è nato lo Stato dell'Arabia Saudita quindi sono due paesi legatissimi tra di loro i sauditi non farebbero mai nulla di serio senza l'autorizzazione americana detto questo la tribù dei Saud era una tribù fondamentalista fondamentalista di quelli proprio super estremisti insomma di quelli che poi hanno forgiato Al-Qaeda, ISIS e quant'altro sono i wahhabiti e nel loro credo c'è il fatto che devono esportare devono diciamo catechizzare il maggior numero di persone in tutto il mondo l'11 settembre gli ha permesso di fare questo quindi i sauditi hanno avuto un enorme vantaggio a questa cosa non era ovviamente l'unica ma non è solo l'Arabia Saudita coinvolta il problema è questo nel senso che l'11 settembre è stato l'evento l'attentato terroristico più grande della storia e anche quello più complesso da organizzare quindi ci sono tantissimi soggetti di molti paesi differenti i sauditi hanno messo i soldi poi ci sono tutte quante le... c'è tutto il resto insomma non si fa solo quei soldi l'attentato chiaramente, senti chi erano infatti i dirottatori? allora, gli dirottatori erano strani personaggi perché alcuni erano quasi delle macchiette 15 su 19, anzi su 20 perché in realtà gli dirottatori erano 20 uno è stato arrestato poco prima dell'11 settembre 15 su 20 erano di nazionalità saudita molti di questi già iscritti alle liste nere del terrorismo internazionale nonostante questo sono entrati tranquillamente negli Stati Uniti e hanno ottenuto il visto cioè non è che sono entrati nascosto sono entrati attraverso un visto cioè in maniera ufficiale non è capitato ad andare negli Stati Uniti quando vi capiterà ve la renderete conto bisogna compilare una cosa una specie di enciclopedia in cui ti chiedono di tutto se sei stato comunista se sei... c'è avuto malattie se sei un terrorista ti fanno domande di ogni tipo e se rispondi male a una domanda il visto non te lo danno se sei italiano figurarsi un saudita questi hanno compilato i loro visti in maniera assurda cioè queste richieste di visti anche senza mettere i nomi senza mettere la residenza senza mettere nulla sbagliando il numero di passaporto hanno fatto delle pecionate assurde e stavano nella lista dei terroristi internazionali nonostante questo sono stati fatti ad entrare negli Stati Uniti questo lo dice anche Lunga sempre sull'attentato del 11 settembre noi abbiamo intervistato il console che ha rilasciato i visti ai dirottatori e ha raccontato come la CIA l'ha obbligato l'ha obbligato a rilasciare quei visti dopodiché questi attentatori hanno un'altra caratteristica anzi altre due la prima è che hanno fatto di tutto ma proprio di tutto per farsi riconoscere per farsi notare che è una cosa strana cioè se io immagino immagino pure te se dovessimo compiere un attentato prima dell'attentato di rendermi quasi trasparente di avere un profilo basso non è che andremmo in giro magari nudi per strada eviteremo una cosa del genere invece loro hanno fatto l'esatto contrario hanno fatto di tutto per farsi notare e eventualmente anche per farsi arrestare e non ci sono riusciti sono stati anche beccati dalla polizia più volte in situazioni per cui negli Stati Uniti ti arrestano direttamente e invece non è mai accaduto hanno perfino minacciato persone hanno fatto di tutto traffici di droga cose assurde e cose la seconda cosa la seconda stranezza che qui si va sul surreale cioè qui siamo veramente oltre l'immaginazione che questi terroristi erano più persone mi spiego meglio perché sono sempre c'erano degli omonimi in pratica nemmeno omonimi cioè ognuno di questi terroristi aveva altri era è difficile da spiegare prendiamo Mohammed Atta allora senti la loro biografia era un insieme di biografie di altri omonimi in pratica sì era un insieme di persone che vivevano in contemporanea non erano persone che prima uno fa una cosa e poi un altro non fa un altro mentre c'era il Mohammed Atta cioè il capo del diciamo del 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 commando che si trovava in Florida a fare delle cose c'era un altro Mohammed Atta che si trovava ad Hamburgo a fare altre cose e un altro Mohammed Atta che si trovava in Egitto a farne altre e così via c'erano cinque di Mohammed Atta c'erano cinque il bello che la storia poi che è raccontata di Mohammed Atta è fatta di quello che hanno fatto queste cinque persone ma in contemporanea allora come fa un essere umano a meno che non si sia inventato un macchinario speciale di cui noi non abbiamo conoscenza a trovarsi in cinque luoghi diversi in contemporanea questo è una cosa un mistero che ci andrebbe svelato perché se si riuscisse a scoprire a fare una scoperta del genere avremmo risolto tanti problemi per esempio il dono dell'obiquità e sono solamente due il dono dell'obiquità immaginiamo cinque alcuni quattro certo senti ma scusami tutti ma proprio tutti i 20 terroristi sono stati addestrati non in Afghanistan ma in Bosnia e Herzegovina non in Afghanistan ma in Bosnia e Herzegovina questo è un passaggio direi fondamentale magari ci ritorniamo fra poco volevo un'ultima curiosità una curiosità che avevo da chiederti sui dirottatori è vero che a partire proprio da Mohammed Atta che è quello diciamo mediaticamente che è stato il più famoso a partire da lui non sapevano guidare velivoli no hanno preso queste lezioni di volo senza imparare a farlo a parte hanno imparato a volare su piccoli aeretti e non a guidare Boeing che credo ci sia una differenza insomma è come guidare una 500 o un tir insomma c'è differenza ma al di là di questo il nessuno di loro addetta degli addestratori di volo erano in grado di decollare di atterrare di fare manovre hanno fatto delle cose assurde sono stati cacciati perfino dalle scuole di volo perché per loro perché non erano capaci molti di loro non conoscevano la lingua quindi ascoltavano queste lezioni senza capire quello che gli stava gli si stava dicendo erano un disastro un disastro queste persone senti con l'11 settembre divenne famosa la sigla Al Qaeda e un nome Bin Laden improvvisamente ecco che cosa è realmente Al Qaeda Al Qaeda in realtà è la metà del nome perché il nome per intero sarebbe Al Qaeda Mahlumat noi conosciamo Al Qaeda c'è sempre stato detto che Al Qaeda tradotto vuol dire la base la base perché Bin Laden aveva costruito una base in cui attirava diciamo volontari per la guerra contro l'Unione Sovietica negli anni 80 in Afghanistan e da lì il nome Al Qaeda invece no non c'entra un fico secco è proprio una fandonia questa che ci è stata raccontata perché Al Qaeda il nome integrale è Al Qaeda Mahlumat e questo nome integrale gli è stato dato dai britannici perché è stata fondata dai britannici dai servizi decreti britannici come facciamo a saperlo perché l'ha raccontato il ministro degli esteri del Regno Unito non uno qualsiasi non passante il ministro degli esteri del Regno Unito Robin Cook quello che fece la guerra al Kosovo tanto per capirsi ha raccontato questo l'ha raccontato in giro l'ha raccontato anche a noi e ha spiegato che appunto Al Qaeda Mahlumat in arabo vuol dire data base che è una cosa molto diversa dalla base perché il data base è una lista di ecco ma è un data base di cosa? ecco data base di persone che potevano essere utilizzate alla bisogna per qualsiasi cosa insomma è come se noi avessimo una lista di idraulici falegnami e quant'altro dobbiamo fare una casa abbiamo bisogno di una serie di professionalità e ci rivolgiamo a queste professionalità immaginate la stessa cosa però per quanto guarda il terrorismo quindi c'è quello che sa mettere le bombe quello che sa far sparire le persone quello che si sa infiltrare da qualche parte il bravo hacker e così via una cosa del genere quello che sgozza bene gli avversari visto che era un data base di mujahideen in pratica non solo di mujahideen di persone da utilizzare perché i mujahideen erano quelli che combattevano in Afghanistan visto che non ha a che fare con l'Afghanistan ripeto al Qaeda ma ha a che fare con la Bosnia e il data base di persone che poi hanno fatto attentati in tutto il mondo di persone che hanno fatto diciamo hanno fatto cose terrificanti tipo sgozzamento di interi abitanti di villaggi in Algeria o in altri paesi una domanda perché allora la narrazione ufficiale al Qaeda si fa si riconduce sempre automaticamente ad are tipo Afghanistan e così ecco perché non è mai stata pronunciata la parola Kosovo la Bosnia ti sei fatto un'idea ti sei fatto un'idea perché se no l'avrebbero beccati primo sì certo perché è un territorio controllabile gioco fuoco fuoco acqua acqua se tu mandi devi devi allontanare le persone insomma non so come non bisogna andare in Bosnia non bisogna andarci perché se fossimo andati in Bosnia avremmo rotto il giocattolo primo secondo perché la Bosnia sta al centro d'Europa secondo il ragionamento di Bush avremmo dovuto bombardare e fare la guerra a un paese che era appena uscito da una guerra civile devastante nel cuore dell'Europa non sarebbe mai stata approvata una cosa del genere insomma non e ultimo avremmo beccato letteralmente beccato i mercenari americani che addestravano queste persone perché queste persone non stavano lì nei campi di addestramento non erano addestrati da altri diciamo jihadisti erano addestrati ufficialmente perché erano sotto contratto da mercenari di una società che si chiama MPRI che è una società di contractors almeno all'epoca era una delle più importanti quando c'è un lavoro particolarmente sporco da fare probabilmente non si fa a livello di chiamiamolo istituzionale a livello di esercito ma si subappalta esattamente ho l'impressione ecco così almeno diciamo l'immagine l'immagine è salva l'immagine solo l'immagine solo la facciata è salva naturalmente senti con l'11 settembre diventa improvvisamente famosissimo Bin Laden ecco mai sentito nominare prima diventa un nome forse un nome familiare come il proprio marito o la propria moglie per dire ecco cosa che ruolo ha avuto nell'11 settembre Bin Laden questo è una cosa su cui diciamo che ci siamo chiesti in molti che ruolo abbia avuto e se l'è chiesto anche l'FBI la cosa bizzarra che ha perfino l'FBI perché bisogna sapere questa cosa non è eppure sarebbe bastato fare un controllo basico per accertarlo e nessun giornalista apparentemente l'ha fatto che l'FBI aveva sì come ricercato principale Bin Laden ma non come ricercato per gli attentati all'11 settembre cioè ufficialmente Bin Laden non era ricercato per gli attentati dell'11 settembre chi lo dice lo dice l'FBI lo dice ufficialmente l'FBI perché scusami Franco Bin Laden diventa appunto famoso mediaticamente in quel momento ma in realtà era la figura principale diciamo del terrorismo già da alcuni anni era la figura principale però lui stesso non ha mai rivendicato quegli attentati e non era ricercato per gli attentati adesso Bin Laden è stato ucciso diciamo almeno ci dicono che sia stato ucciso questo è la perché non l'abbiamo mai visto quindi diciamo ci fidiamo è stato ucciso a un certo punto ma se fosse stato arrestato invece che ucciso l'avrebbero processato non per l'11 settembre si sarebbero trovati in grandissimo imbarazzo perché a quel punto avevano pagli un processo ma non era sotto inchiesta per l'11 settembre quindi gli crollava il castello non so come dire non chiaro chiarissimo gli crollava il castello senti dobbiamo dedicare qualche minuto sicuramente all'altro evento altrettanto importante proprio accaduto l'11 settembre anche se l'attenzione mediatica e l'emotività è stata completamente assorbita dal crollo delle torri gemelle perché era chiaramente anche quello a livello di immagine chiaramente più appariscente poi quasi 3.000 morti veramente un disastro immane epocale e l'episodio del del pentagono anche lì un aereo che si schianta contro il pentagono allora volendola sintetizzare proprio in pochissimi minuti che che riflessioni prima di tutto si possono fare sull'accaduto al pentagono primo che non ne stavo mai visto non ci sono immagini che mostrano l'aereo ci sono solamente due anche lì anche lì ufficialmente la versione ufficiale è un aereo di linea no mi sembra un aereo di linea allora due delle 87 telecamere che avrebbero potuto filmare l'aereo e che sono state tutte sequestrate dall'fbi e mai mostrate e che anche questa è una cosa molto strana solo due delle 87 telecamere che sono quelle del parcheggio mostrano una cosa che sfido chiunque a riconoscere in un aereo cioè c'è una specie di macchia che appare in un fotogramma si vede questa macchia che colpisce il il pentagono allora quindi non esiste non esistono testimoni oculari non ci sono immagini noi abbiamo rintracciato le immagini attraverso le immagini della PBS che è la tv pubblica americana abbiamo rintracciato le immagini del pentagono appena colpito quindi prima ancora di quelle che ci hanno mostrato e si vede un pentagono in tonso con il prato perfetto c'è solo da un lato una specie di bobina elettrica insomma di camion elettrico che porta elettricità che è in fiamme l'unica cosa strana in quella situazione è questo camion in fiamme dopodiché si vede se si fa molta attenzione in basso al centro dell'ara del pentagono che sarebbe stata colpita dall'aereo si vede un buco questo buco è largo appena a tre metri e basta è come se fosse un siluro non come se fosse l'aereo c'ha le ali a parte che è più larga anche la fusoliera come se fosse entrato un monomotore esattamente non manca un monomotore comunque le ali non c'ha manco il segno sul prato non c'è segno di pezzo d'aereo non c'è nulla allora questa questa immagine qui le immagini che non hanno mostrato invece se si continua ovviamente a guardare le immagini dopo un'ora crolla l'ala del pentagono e quello che hanno mostrato è l'ala crollata vedete l'ala crollata cioè noi abbiamo visto quell'ala crollata non abbiamo visto l'immagine prima perché sennò sarebbe stata una cosa ma che è successo nel pentagono non è successo nulla allora considerazione numero uno l'aereo ha volato per ben sei chilometri a sei metri dal suolo allora un aereo credo che sia anche tecnicamente impossibile che vola sei metri dal suolo con dislivelli vari è praticamente impossibile e comunque per una questione di fisica avrebbe sradicato il terreno sotto di sé perché sarebbe quasi trascinato appresso per una questione di movimenti d'aria mentre invece non c'è nulla cioè tutto perfetto era perfino il prato secondo il pentagono è l'edificio meglio difeso dell'intero pianeta non ci si può avvicinare se non si è amici si viene abbattuti non è che è una cosa non ti chiedono neanche l'identificazione ti abbattono direttamente esattamente e non ti abbattono neanche gli aerei ti abbattono dei missili che partono automaticamente cioè c'è un un diciamo un messaggio radar che parte se la scatola ti trasponde non c'è interazione non c'è interazione c'è solo un messaggio partono i missili e tu sei morto quindi quindi non è appunto non è come dire non è possibile cioè non è possibile certo senti volevo ecco questo gli aspetti diciamo di tipo tecnico no Franco tu che idea ti sei fatto del perché è avvenuta questa poi tra l'altro proprio in contemporanea l'11 settembre tu che chiaramente con la profondissima conoscenza che hai di questi eventi che idea ti sei fatto perché è avvenuta una cosa del genere perché c'è stata questa evidente probabilmente questa messa in scena tra l'altro un aereo di linea era vuoto perché non c'è neanche stato un elenco di di persone imbarcate sarebbe stato vuoto a questo punto va bene senza senza adentrarci in quello ritorno alla domanda che idea ti sei fatto sul perché è avvenuto questo c'è stata questa no come hai detto te è stata la più grande messa in scena della storia fermo restando che i morti sono stati le torri sono crollate non sto negando questo anzi ma ehm è stata qualcosa che ci ha terrorizzato che doveva terrorizzarci tutti quanti che ha permesso a miliardi di persone ehm di ehm vedere con i propri occhi l'aereo che si schiantava in diretta le torri che bruciavano e ehm le torri che crollavano noi abbiamo ehm ehm non so come dire questa cosa che è durata esattamente un'ora e mezzo cioè la la lunghezza di un film esattamente la lunghezza di un film e più nemmeno ehm ha fatto sì che il nostro cervello pensasse che noi avessimo vissuto in diretta quelle cose in realtà non abbiamo visto quasi nulla abbiamo visto un aereo che si schiantava due torri che crollavano fine non abbiamo visto come vi ha detto il pentagono non abbiamo visto quello che è successo in pensi bene con un altro aereo non abbiamo visto il primo schianto perché l'abbiamo visto solamente per caso dopo non abbiamo visto ehm il perché sono crollate non abbiamo vissuto quello che accadeva dentro quelle dentro le torri cioè tutto questo in realtà l'11 settembre noi non l'abbiamo visto però pensiamo di averlo visto e quel che abbiamo visto con i racconti successivi è stato sufficientemente terrorizzante per annichilirci tutti tant'è vero che l'unico evento nella storia che riporta la data che riporta come nome la data perché se tu dici 11 settembre non c'è manco bisogno di dire 2001 dici 11 settembre tutti capiscono di cosa stai parlando è come dire 25 dicembre perché è un evento unico un evento unico nella storia allora il terrorismo la parola terrorismo ha un significato vuol dire terrorizzare qualcuno cioè il terrorismo non è fatto per uccidere le persone ovviamente vengono uccise e non sempre nel caso dell'11 settembre sì eppure tante ma viene fatto per terrorizzare non i morti che sono morti terrorizzare coloro che sopravvivono cioè i vivi quindi l'evento in se stesso è stato l'evento più terrorizzante della storia e questo atto di terrore terrore puro ha permesso di fare quello che questa è una mia ovviamente è una mia interpretazione anche se basata su solide solidi fatti però la mia interpretazione è stato un vero e proprio colpo di stato cioè un colpo di stato a livello mondiale cioè il primo e unico colpo di stato mondiale della storia e questo colpo di stato è stato possibile grazie a un atto di terrore senza pari perché noi tutti li abbiamo permesso noi tutti li abbiamo permesso dopo di che che accadessero tantissime cose e abbiamo legittimato a livello di pubblica opinione tutto quello che è avvenuto dopo tutti ricordano le guerre contro l'Afghanistan e l'Iraq ma quella è nulla rispetto a tutto il resto che è accaduto sono cambiate le leggi di tutto il mondo è cambiato il modo di viaggiare è cambiato il modo di percepire il mondo è apparso un soggetto che prima non riconoscevamo che era il terrorismo islamico che ci ha accompagnato da allora sono vent'anni che ci perseguite il terrorismo islamico e sulla base di questo terrorismo noi cambiamo il nostro modo di vivere gli Stati Uniti sono passati da una sessantina di paesi in cui avevano le basi a ben oltre 130 paesi in cui hanno le basi e questo è un dato fondamentale c'è stato Guantanamo che sta ancora lì sono passati i presidenti si diceva lo scandalo di Bush è venuto Obama è rimasto Guantanamo è venuto Trump è rimasto Guantanamo non c'è Biden non mi pare che lo voglia smantellare che è una vergogna per l'umanità Guantanamo allora nessuno si sogna minimamente di dire ma guardate però sarebbe il caso di smantellarlo perché c'è stato l'11 settembre adesso sto dicendo una cosa che non fraintendetemi ovviamente sono due cose non paragonabili però l'11 settembre sta alla politica estera americana come l'olocausto sta alla politica estera israeliana cioè quando uno prova a dire qualche cosa gli americani dicono ebbè c'è l'11 settembre non potete romperci le scatole e improvvisamente si zizziscono tutti sono due eventi drammatici due eventi veri due eventi che hanno che non sono paragonabili ovviamente non è paragonabile l'olocausto l'11 settembre vorrei chiarire questa cosa chiaro i nostri ascoltatori sapranno bene in vista del messaggio mediatico no se tu rompi se tu contesti lo stato di israele perché che ne so spara i palestinesi o fa un'altra schifezza però c'è stato l'olocausto e quindi non potete romperci le scatole gli americani fanno la stessa cosa a un livello differente e lo possono fare perché tutti l'abbiamo visto perché tutti a differenza per esempio l'olocausto che non abbiamo vissuto direttamente abbiamo visto nei film o nei documentari quello l'abbiamo vissuto in diretta e quindi ci ha colpito al cuore direttamente ci ha colpito alla pancia se non l'avessimo in diretta non sarebbe stata la stessa cosa assolutamente perché le immagini soprattutto in diretta hanno un peso e un impatto anche emotivo assolutamente dove una descrizione riportata non è assolutamente paragonabile in pratica diciamo è stato un certificato di impunità permanente in pratica esattamente con quello noi possiamo fare tutto quello che vogliamo perché c'è l'11 settembre chiarissimo Franco senti noi potremmo andare avanti per ore vista la tua la tua conoscenza di tutti questi fatti ma io sono convinto che i nostri ascoltatori hanno sentito molti spunti molto significativi anche molte notizie dimmi sì sì prego perché noi abbiamo parlato dell'11 settembre di quello che è accaduto dopo però io il libro che ho fatto su quello che è accaduto prima cioè Burning Down and Eleven come è stato organizzato l'11 settembre e questa è una cosa di cui non si è parlato mai cioè è una di quelle cose sconosciute perché se tu vedi qualsiasi trasmissione televisiva qualsiasi approfondimento anche su youtube o in generale nei libri tutti quanti sono concentrati sull'evento l'11 settembre nessuno su quello che è accaduto prima e su come è stato organizzato e vi assicuro che è una storia surreale ed è una storia altrettanto diciamo forse la spy story più incredibile e reale della nostra storia certo certo perché l'11 settembre in realtà ha una genesi che nasce diciamo anni anni prima e questa è quindi un'ottima opportunità per leggere il tuo libro per stare a leggere il tuo libro Burning Down 9-11 9-11 l'incredibile storia di come si arrivò all'11 settembre io ricordo anche The ISIS Files da Washington al Donbass la storia segreta del califato e i due bellissimi documentari veramente splendidi invito anche quelli meritano di essere visti documentario zero inchiesta sull'11 settembre e il documentario del 2010 one inchiesta su Al Qaeda tutto questo è acquistabile scrivendo direttamente a Franco Franco Fracassi 1 in numero ma trovate il il link l'indirizzo in descrizione Franco Fracassi 1 chiocciolagmail.com Franco grazie a presto vista la tua prolificità avremo occasione di sentirci a breve ma penso con un nuovo libro anche grazie lo sto scrivendo uno spero di riuscire a finirlo non avevo non avevo dubbi ne hai già un altro quasi pronto benissimo grazie grazie Franco Fracassi a presto ciao grazie a tutti